Musica Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di Canale 74. Far West delle assicurazioni sanitarie, oggi la seconda puntata della nostra inchiesta. Cosa succede ai pazienti? 20 anni per un risarcimento non bastano. Sentiamo. In mezzo tra le compagnie assicurative e gli ospedali ci sono i pazienti, che si trovano a dover trattare spesso con assicuratori stranieri, spesso misteriosi, che in caso di insolvenza scaricano gli oneri sulle strutture sanitarie. In Sicilia sono circa 1.500 le denunce a carico degli ospedali, gli importi medi del risarcimento circa 20.000 euro. La novità della mancanza delle assicurazioni per gli ospedali siciliani rischia però di fare implodere il sistema. Per ora chi non si adegua non rischia nulla. La federazione medici ha anche deciso di sospendere le sanzioni disciplinari previste dal decreto. Il motivo è semplice, oggi i costi sono proibitivi e per ortopedici, chirurghi e ginecologi si sfiorano addirittura i 20.000 euro l'anno. Decine di sigle dai nomi più disparati e dai patrimoni fragili. L'Ivas, l'autorità che vigila sulle assicurazioni, ha le mani bloccate e può solo interdirne l'operatività in Italia. La maggior parte delle compagnie ha però sede all'estero. Ottenere un risarcimento è davvero un'utopia. Lorenzo Lamonica morì il 10 settembre del 1994 a Modica. Da allora il percorso del suo risarcimento in sede civile non si è ancora concluso. Sono passati 20 anni, un milione di euro la cifra richiesta, tra decine di udienze e perizie. E ancora il caso è solo all'inizio. E a Ragusa l'ultima del presidente Crocetta. Commissaria, il commissario. Le province. Scadute le gestioni commissariali il 31 ottobre scorso, gli enti intermedi restano senza una guida. L'Assemblea regionale siciliana non è stata in grado di deliberare nemmeno una legge di proroga dei commissari. Enti acefali, praticamente allo sbando, che aspettano di conoscere il loro destino. Per correre ai ripari, il governatore Crocetta ha individuato altri nuovi commissari ad acta per eventuali atti urgenti ed indifferibili. A Ragusa è pronto per la bisogna il funzionario Giuseppe Petralia. Crocetta, all'arena da Giletti, annunciò in pompa magna che la Sicilia cancellava le province, prima del premier Monti. Invece ora non solo non le ha ancora abrogate, ma le lascia in uno stato di coma. Ma è questa la vera rivoluzione oppure solo un caos centralizzato e certificato per decreto? E al cimitero di Modica è sfiorata la tragedia. La testimonianza l'avevamo segnalato. Stavano commemorando i loro cari nel religioso silenzio che l'occasione meritava proprio nel giorno dei defunti, quando improvvisamente hanno visto una parte di intonoco staccarsi dal soffitto. L'area del cimitero, già sottoposta a interventi di manutenzione, era stata segnalata dal comitato di vigilanza per il cimitero di Modica al sindaco, unitamente alla commissione comunale. La messa in sicurezza era già stata avviata da parte dell'impresa, ma evidentemente i lavori eseguiti non hanno garantito la piena incolumità pubblica. Abbiamo raccolto la testimonianza della donna. Sentiamo. Il cimitero di Modica si è rilevato una trappola mortale, sinceramente. È caduto questo pezzo di intonoco e siccome avevamo segnalato già il fatto sia all'amministrazione comunale, al sindaco e ieri abbiamo segnalato il fatto anche al vigilo urbano che stava di servizio davanti al cimitero. Oltretutto c'erano presenti molte persone e abbiamo avvisato subito le persone che stavano salendo le scale. E ci spostiamo a Pozzallo dove la politica diventa corna style. Non si erano accorti che a discutere in consiglio comunale erano appena in sette, uno in meno del cosiddetto numero legale. Succede allora che dal pubblico qualcuno fa rilevare questa anomalia e si scatena la contestazione. Il presidente della seduta, Francesco Gugliotta, annuncia addirittura una querela per il cittadino che viene invitato ad uscire dall'aula in compagnia dei vigili urbani. La dichiarazione, che rende al segretario, è di una ovvietà di rara importanza. A verbale viene indicato che nessun atto sarebbe stato votato perché consapevoli di non avere il numero legale valido per la seduta. Che nessun atto sarebbe stato esitato senza la verifica del numero legale. La reazione dei consiglieri imbarazzati ed arrabbiati sfocia in un gesto poco incline adatto ad un'aula istituzionale. Il gesto delle corna, appunto, una caduta di stile che va stigmatizzata e declinata come gesto offensivo degenerativo per le istituzioni. E a Modica i cantieri di lavoro fermi al palo fanno arrabbiare i disoccupati. Tutto tace dal comune di Modica sui cantieri di servizio che tanta notizia avevano fatto nei mesi scorsi. Dopo un acceso clamore, ora che i termini per il finanziamento regionale stanno scadendo, tutto pare caduto nell'oblio. A sollevare la questione sono alcuni consiglieri dell'opposizione che con una interrogazione chiedono conto e ragione sull'avvio dei cantieri. L'ultima comunicazione da parte dell'amministrazione, a firma dell'assessore Floridia, risale al mese di luglio, dove si dichiarava che tutto era pronto in attesa dei decreti di finanziamento. Da allora però non si è più saputo nulla, come lamentano i consiglieri. Il rischio e il timore sono quelli di perdere questi contributi regionali che darebbero lavoro a molti giovani disoccupati. E a Ispica si parla di anticorruzione. Il sindaco tiene un corso ai suoi dipendenti. Quando si dice che prevenire è meglio che curare, a Ispica i dipendenti dovranno seguire un corso sulla prevenzione dei fenomeni di corruzione e di illegalità che vedrà in cattedra il sindaco Piero Rustico. Un programma formativo serio svolto direttamente in house, senza oneri economici per lente, che prevede un ciclo di incontri tra cui i relatori c'è proprio il sindaco stesso, in qualità anche di legale. Gli obiettivi sono la promozione della legalità della pubblica amministrazione e la trasparenza di appalti e forniture. Un corso vero e proprio di bonton amministrativo per cercare di prevenire scorrettezza e illegalità. Una formazione che dovrebbe forse essere applicata anche in altre amministrazioni della provincia. E' quando si dice che la polizia parla a romeno. Importante iniziativa della polizia di Stato per combattere lo schiavismo sessuale. Vediamo. Volantini in lingua romena per cercare di convincere le donne che lavorano nelle serre del Vittoriese a denunciare abusi e sorprusi subiti. E' quanto ideato dalla polizia di Ragusa, che nei giorni scorsi ha cercato di parlare con le donne, quelle definite schiave del sesso, per cercare riscontri. In divisa hanno passeggiato tra le serre delle campagne eparine per incontrare a viso aperto le donne, per cercare di rassicurarle nel caso di denunce dei propri Aguzzini. Per ora infatti, nonostante ci siano dati numerici spaventosi di abusi sulle donne dell'est, non ci sono riscontri se non qualche testimonianza sporadica. L'obiettivo della polizia di Ragusa è di individuare i colpevoli e proteggere le donne romene dalle conseguenze. E parliamo di agricoltura. Contributi a fondo perduto per giovani agricoltori. Contributi a fondo perduto fino al 70% degli investimenti sostenuti. Si chiama sottomisura 4.1. E' il sostegno alle aziende agricole che vogliono realizzare investimenti materiali, immateriali e funzionali per l'adeguamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento del sistema produttivo agricolo e agroindustriale. Il contributo sarà attivato nell'ambito del pacchetto giovani agricoltori e i destinatari sono gli agricoltori e le associazioni di agricoltori. Il finanziamento è concesso con un contributo pari al 70% del costo dell'investimento, una opportunità di crescita per molti giovani imprenditori agricoli. E ci spostiamo a Marina di Modica dove la pista ciclabile si presenta in stato di incuria e di abbandono. È desolattamente abbandonata l'incurio ormai da qualche anno, costata 3 milioni di euro. L'ente proprietario è la provincia regionale di Ragusa o quello che è rimasto. Il destino della pista ciclabile di Marina di Modica appare segnato. Erbacce, strade divelte, detriti. La provincia o quello che fu non può più permettersi lussi di manutenzione, di cerbature varie. Aveva fatto anche un bando per scambiare con dei servizi pubblicitari i servizi di manutenzione, con una ditta privata. Ma le tabelle pubblicitarie sono risultate incompatibili però con il codice della strada. Allora il sindaco Abate, passato alle cronache per le sue azioni di cerbatura sul territorio comunale, non gli è sembrato neanche vero. Ha chiesto all'ente l'affidamento della pista ciclabile per consentire al comune azioni di manutenzione e di fruibilità agli utenti. Autonoleggio, pratiche scorrette. L'antitrust multa 450 mila euro la Sicily By Car. Prelievi ingiustificati dalle carte di credito dei clienti, cui venivano addebitate spese non dovute o superiori a quelle effettive per la riparazione delle autovetture danneggiate. Questa è la motivazione alla base della sanzione dell'antitrust nei confronti della società di autonoleggio Sicily By Car, multata per complessivi 450 mila euro. A renderlo noto è lo sportello europeo dei consumatori. Lo sportello aveva denunciato diverse segnalazioni di problemi riscontrati dai consumatori dopo aver noleggiato un'auta. E fra queste c'erano appunto quelle di richieste di risarcimento danni all'autovettura e a debito di spese non previste dal contratto. L'antitrust aveva aperto un procedimento su segnalazione dello sportello nei confronti della società per presunte pratiche commerciali scorrette. E ora la cronaca, risse e furti, polizia al lavoro. Concessi domiciliari i quattro nordafricani arrestati sabato scorso dalla polizia di Modica per rissa aggravata, avvenuto alle 22.30 in piazza Matteotti. Si tratta di un marocchino e tre tunisini con precedenti penali. Durante la rissa uno di loro ha riportato gravi feriti al volto mentre gli altri hanno tentato la fuga. Immediato l'intervento della polizia che ha bloccato i quattro stranieri. E' sempre la polizia ma questa volta a vittoria ha arrestato due uomini pizzicati dalle pattuglie mentre armeggiavano nel loro auto dopo un furto su un'altra autovettura. I due uomini sono stati condotti al commissariato di Vittoria dopo che avevano vanamente tentato di nascondersi in una abitazione. E nel nostro spazio documentari questa sera alle 21 su canale 74 la torre Sveva di Vendigari a firma di Fabrizio Ruggeri. Prosegue questa sera lo spazio video documentari firmati da Fabrizio Ruggeri con i luoghi più suggestivi della nostra area. Oggi è la volta della torre Sveva di Vendigari. Appuntamento alle 21 su canale 74. Vediamo uno stralcio. Ingorniciata in un bellissimo paesaggio marino, fiera imbellita dai secoli, la grande torre medievale svetta su di un'estrema punta rocciosa di Vendigari, a guardia dei grandi specchi palustri, lì dove le stagioni scandiscono ciclici colori di epoche lontane. Bene, con questo è tutto. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci. Grazie per la visione.